La notizia di oggi in realtà avevamo voluto che fosse il Comune a darla, cioè noi abbiamo saputo purtroppo con fatica dentro al palazzo che quel famoso abbattimento di alberi, di via Pantini che tutti ricordiamo essere stato fatto all'improvviso, all'alba, quasi di nascosto rispetto alle sezioni che chiedevano di rivedere anche un po' il progetto, ebbene quell'abbattimento non poteva essere fatto in quelle modalità. Non lo diciamo noi, lo dicono questa volta i grabinieri che hanno rilevato l'assenza dell'autorizzazione da parte della Regione verso il Comune e hanno anche fatto delle sanzioni alla ditta e anche alla struttura del Comune. Questo crediamo che sia un fatto di mancata trasparenza che il Comune non lo abbia detto, perché ovviamente poi la città si è mobilitata giustamente per far rinascere la riserva, e crediamo che proprio nel momento in cui si chiede ai cittadini giustamente di partecipare attivamente e anche economicamente alla rinascita della riserva colpita purtroppo anche dall'incendio, ebbene quando si chiede questo patto crediamo che sia utile e anzi necessario adottare la massima trasparenza. Quindi a questo punto secondo voi cosa bisognerebbe fare? Ma questo lo chiederemo al Sindaco, alla Giunta, cosa vogliono fare, perché è chiaro che la legge dice chiaramente che non è prevista una possibilità di sanare una mancata autorizzazione, quindi vorremmo capire quali idee ha a questo punto la Giunta per dire alla città sostanzialmente come procederà, perché è ovvio che questo è anche stato un problema di mancata comunicazione nei confronti della città, che aveva diritto di sapere che quell'abbattimento in quel modo non poteva essere fatto.